A Macchitella il disordine è diventato regola. Dal comitato un invito al commissario Rena a fare un giro per il quartiere e vedere da vicino l'inaccettabile degrado a cui pare ineluttabilmente destinata. Vedremo, affermano i componenti il comitato di quartiere, se la cura dimagranda imposta dal commissario Rena darà un po' di sollievo alle casse comunali, ma la sofferenza nei servizi e nella qualità della vita, aggravata semmai da vari tagli, è sotto gli occhi di tutti. Una città letteralmente martoriata da una cattiva amministrazione che perdura anche con la straordinarietà di una gestione commissariale. Persino a Macchitella, il salotto cittadino di ogni sera in estate, del weekend e nelle altre stagioni, l'unico polmone verde per eccellenza di questa sfortunata urbe di Urbano è rimasto poco o nulla. Tutti contenti eravamo che venisse un colonnello che finalmente si assisterebbe a delle regole in quel quartiere. Invece non è così. La manutenzione del verde è inefficace e a dir poco. L'illuminazione è in più punti carente. Un giardino sempre più al buio, altro che fiore all'occhiello. Non se ne può più. Anche il commissario è rimasto sordo e passivo innanzi alle nostre chiare e frequenti sollecitazioni. Le siepi ostruiscono la vista agli automobilisti. Il verde pubblico, sinceramente, su questa cosa, guarda, hanno fatto orecchie da mercante tutti. Perché è una cosa che non ci possiamo permettere, che c'è il verde. Che cosa possono pulire? Solo dove ci sono solo strade e che non cresce neanche un filo d'erba. Il problema è per i bambini, per i ragazzi che vengono a Domenico lì a passeggiare, e rispettare un po' di ossigeno, che lo stanno facendo morire. Non solo, ma poi parlo sulle siepi. Sulle siepi è un pericolo pubblico, nel senso che ormai nelle siepi, quando uno attraversa la strada, non vede le macchine che arrivano dall'altro lato. E ne succedono di cotte e di crude. La Ghelas, io ho parlato con Gian Musso, sperando che... ma lui mi dice che ha poche persone e che non ci sono soldi. Qual è il messaggio che lei oggi vuole lanciare attraverso anche le nostre telecamere a chi governa questa città? Visto che abbiamo avuto un'esperienza bruttissima, con tutti i politici che si sono succeduti, con tutti i sindaci, questa volta se andate a votare cercate di scegliere persone per bene, persone visibili, persone... dovete fare la radiografia a questa gente e poi li votate. No, perché il nipotismo mettetelo da parte. Chi ve lo chiede perché è un amico suo e che dovete dare il voto, lasciatelo andare. Votate con la vostra coscienza e cercate di creare le condizioni per il bene sociale e il bene comune di questa città.